vai erzo siamo siamo tornati nel mille quadra siamo ritornati a 800 e più anni fa 1200 praticamente quando nacque il castello e qui ci troviamo giù al fossato zona dove comunque quel giorno verrà il mitico albero di natale umano bello una bella zoomata sul tramonto barloppano che è sempre qualcosa di poi ci abbiamo il grande raffaele rizzi che lo ringraziamo ci stiamo un elemento molto ma molto pericoloso veramente se state davvero subito perché qui c'è la storia ma poi è bello a starci pure a parte il fatto di 800 anni fa e più qui si ritorna bambini e più tempo adesso hanno messo dei vincoli hanno sistemato un pochettino era anche ora è qualche abitava solo ma fai due ore era vicino che dici un alberino qui un alberone comunque è questa dai camminiamo lei camminiamo allora Enzo siamo tutti pronti vuoi dire qualcosa per quanto riguarda i nostri amici che noi ci stiamo impegnando su quello non c'è nessunissimo problema e per regalarci un bellissimo momento anche perché vogliamo entrare nel guinness dei primati e poi vogliamo regalare alla città di barretta un ricordo indelebile è l'albero umano dell'oro è una cosa che poi verrà ricordata e tramandata nei tempi passaparola cambia di camera ecco allora un tempo cameraman se può zoomare qua per favore un tempo si scendeva da qui ecco che poi è stata un pochettino murata è anche giusto chi abitava da queste parti sapeva a memoria i punti dove per scendere dove mettere le mani i piedi roba di due o tre attacchi e stavi giù al castello e viceversa due o tre attacchi e salivi sopra insomma i vecchi allora per gli amici di fuori ci siamo anche attrezzati per gli amici di fuori abbiamo cominciato ma poi c'è stato dritto e noi giovani saremmo avuto da rabbiai saremmo un pochettino noi per gli amici di fuori anche perché come si chiama canale 93 te lo dico subito perché puglia channel canale mi domandate sia infatti c'è ci ha dato questa grandissima opportunità di fare la diretta streaming in puglia channel canale youtube per lo streaming pure dove nico c'è una cosa allucionale è un posto dove si è già difficile entrarci perché abbiamo fatto il però abbiamo questo è suggestivo è troppo bene immagino quante storie bellissime viva le viva le castellani viva le castellani allora ci sarà ci sarà radiogamma e puglia channel canale 93 digitano vingente digitale terrestre digitale terrestre cioè vi raccomando vedete solo per i barlettari di fuori perché il segnale di barrette non prende le chi si è e chi è big appunto questo è un servizio scherzato noi questo abbiamo fatto e anche per chi non può è impossibilitato veramente di divenire sai quante belle persone che stanno a letto che li salutiamo per me è una soddisfazione che abbiamo dato anche a questo servizio e poi è brutto farselo raccontare è infatti venite qua e vivete con noi questa bella situazione barlett e avessere